Ciao Testina, sono di nuovo io e sono qui dall'Istituto Sant'Ambroios, naturalmente nell'angolino della mia promozione. Attenzione perché questa settimana, signori, è una promozione un po' confidenziale. Solo per quelli che stanno per diventare di Milano. Già sento la rabbia che spinge il fegato di quelli che non stanno per diventare di Milano. Signori, questa sera io tiro fuori un regalo che vi farà venire il terremoto. Tutto viene giù dai muri, dalle cose, i locali si aprono, si svuotano, la gente esce per le strade. Lo voglio anch'io quella roba? No! No! Quella roba lì ce l'hanno solo quelli che stanno per diventare di Milano. Eh, cari, bisogna... Bisogna fare queste cose. E punire chi non vuol diventare di Milano. Signori, per tutti quelli che stanno per diventare di Milano, suspense enorme. Voi sapete qual è il problema? Il problema che attanaglia questa città. L'unico, peraltro, l'unico problema che attanaglia questa città. Il traffico della tangenziale, signori. E noi che cosa vi abbiamo escogitato? Questo come regalo, sommo, supremo. Signori, il primo svincolo gonfiabile! Ragazzi! Il primo svincolo gonfiabile! Siete lì in autostrada, chiusi, lì a Cusano Milanino. C'è una coda di 20 chilometri. E voi cosa fate? Sa! Schiacciate il pulsante e si apre subito il vostro svincolo gonfiabile. Signori, svincolo gonfiabile dell'Istituto Sant'Ambrose. E potete uscire quando volete e dove volete! Ciao, testina! E allora, non perdete tempo, iscrivetevi subito all'Istituto Sant'Ambrose. Solo così diventerete di Milano! E potrete dire finalmente anche voi... Uè, figlia! Istituto Sant'Ambrose, l'unica scuola per diventare di Milano!